Eccoci qui al TG Platinum, bentrovati da Tilio Scuderi, io vi ricordo sempre di consultare le nostre pagine social, Instagram, Facebook ma anche YouTube, tutte brandizzate Remax Platinum, oggi TG Platinum, oggi ancora notizie, sapete cosa tiriamo fuori? Quali sono le zone migliori dove vivere a Catania? Catania è una delle città più grandi della Sicilia e d'Italia per quanto riguarda la popolazione, per questo il centro etneo si sviluppa su diversi quartieri, ognuno con le sue caratteristiche e le sue peculiarità, se stessi pensando di trasferirti a Catania con la tua famiglia potrebbe interessarti sapere quali sono i migliori quartieri dove vivere a Catania con i bambini, la zona onnina lungomare rappresenta una delle scelte predilette delle famiglie che decidono di vivere nella città etnea, Tra le altre zone segnaliamo Borgo Sanzio, Canalicchio e un classico. Grazie. Grazie. Grazie.